Entra nel vivo a Roma il processo che vede coinvolti l'amministratore delle società MAD e della NGR, Walter Lozza, e l'ex dirigente della Regione Lazio, Flamini Atosini, indagati per concussione, corruzione e turbata libertà degli incanti. Un'inchiesta ampia sulle discariche del Lazio, con uno dei filoni che riguardava la trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale a nuovo sito di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento di RSU di Roma. A raccontarne i dettagli è stato il colonnello Dario Burattini, al comando del nucleo investigativo dei carabinieri del NOE durante l'indagine coordinata dalla Procura di Roma, che il 16 marzo 2021 portò all'arresto sia della dirigente regionale che dell'imprenditore. L'inchiesta è nata, affermato Burattini da due esposti, il primo firmato dell'ex sindaco di Civitavecchia, Antonio Cozzolino, quando la Regione Lazio, con un atto della Tosini, ha revocato la gestione della discarica al comune di Civitavecchia, l'ha affidata alla società MAD di Lozza. L'altro esposto è stato fatto nel 2019 dal rettore dell'Università Agraria di Bracciano, che denunciava il deposito di terra e roccia da parte di mezzi della MAD in un terreno di proprietà dell'Università, materiale che proveniva da scavi fatti in prossimità della discarica di Fosso Crepacuore a Civitavecchia. Da quanto emersi i due amanti avrebbero messo in piedi quella che loro stessi nelle intercettazioni telefoniche hanno definito straordinaria operazione. La società di Lozza avrebbe dovuto spendere quasi 2 milioni di euro per smaltire tonnellate di terreno e invece la cifra sarebbe stata incassata dalla MAD, con stanziamento dalla Regione Lazio, che avrebbe acquistato la terra da smaltire. Secondo l'accusa, in cambio dei suoi favori, tra i quali anche autorizzazioni per alcune discariche aperte nel Lazio, la funzionaria regionale avrebbe ricevuto una serie di regali da Lozza, il quale dal canto suo avrebbe affermato di gioielli e borse regalati a fronte della loro stretta amicizia.